Eccoci qua, signori siamo tornati all'Evita Disco Club questa sera, il sabato notte, e abbiamo trovato una grandita sorpresa. Assolutamente sì. Voglio presentarvi Enrico. Ciao Enrico. Ciao ragazzi. E' un piacere trovarti in questa serata molto particolare e vogliamo subito chiederti cosa ci fai tu qui. Ma qui io sono di casa ragazzi perché è il secondo evento, è il Time, ed è un evento fashion, cioè noi abbiamo preso l'Evita come nostra casa per i marchi del gruppo Morellato che sono Just Cavalli, Polis e ultimo arrivato John Galliano. John Galliano, mica pizza e fichi, solo per precisare. Ok, siamo qui e facciamo un lavoro di co-branding sia con l'Evita, con i nostri clienti che sono sia di Torino, sia di Cuneo, ma in generale di tutto il Piemonte. Abbiamo visto questa sera che hai dato in omaggio parecchi orologi targati, firmati John Galliano. Sì. Capita che in queste serate noi nel nostro format diamo questi omaggi proprio per far vedere che cosa è il marchio e quindi facciamo questo format insieme chiaramente in collaborazione con l'Evita. Vuoi darci qualche tuo riferimento dove possiamo trovarti su Facebook o su internet? Allora, su Facebook Bernardo Enrico, dove tutti i lavori che stiamo facendo sul territorio non solo del Piemonte, non solo a Torino, ma anche in Liguria. Abbiamo fatto adesso il 7 luglio un grande evento a 7 luglio. Anzi, faccio una cosa, vi invito al 14 di agosto, abbiamo una cosa mega galattica al B-Fly con Satoshi Tomi ed è brandizzato Polis. Venite e vi divertirete, sarà veramente una festa eccezionale. Perfetto. Allora, grazie Enrico. Grazie per averci. Vi chiediamo come a tutti di fare un saluto agli amici di 4Music e Italico Live Show. Allora. Vediamo. 4Music e Italico Live Show. E Italia con la Uli Show. Live Show. Live Show. Live Show. Ok, ciao. Ciao a tutti, a dopo.